I Kikomori Intanto è un termine giapponese che significa letteralmente stare in disparte, è un termine gergale che usavano gli stessi giapponesi riferendosi a queste persone che a un certo punto della loro vita decidevano di chiudersi nella propria stanza, nella propria casa. Vuol dire portare avanti il proprio progetto di vita escludendo i vari sistemi sociali, per esempio il sistema delle amicizie, il sistema scolastico e ovviamente tutta la società. In alcuni casi, nei casi estremamente gravi, vengono annullati anche i contatti con la famiglia. I Kikomori assolutamente non è una patologia, non è una malattia mentale, non è una psicopatologia, anche se però a volte, soprattutto quando il ritiro è prolungato nel tempo, possono insorgere delle psicopatologie. È un fenomeno che compare in tutti i paesi economicamente sviluppati a causa di pressioni di realizzazione sociale, però ci sono differenze, ci sono differenze culturali, quindi mentre in Giappone e nei paesi asiatici il fenomeno è molto più grave, possiamo dire, perché queste persone veramente nella maggior parte dei casi non hanno nessun tipo di contatto con il mondo esterno, invece nei paesi occidentali, quindi da noi, come ad esempio negli Stati Uniti anche o in UK, la situazione è leggermente diversa, perché queste persone possono mantenere il contatto con l'esterno, con gli altri o con la famiglia. Già dalle medie, già la seconda media ho cominciato a lasciarmi andare un po' con la pigrizia e la sbagliataggine nel fare le cose, poi è peggiorata, diciamo peggiorato, oppure ha preso una piega peggiore diciamo in seconda superiore, che lì ho letteralmente staccato tutto e ho detto non ce la posso fare, non voglio farlo e me ne sto a casa per conto mio, faccio le cose per conto mio. Torno al passaggio dalle medie e le superiori, ho cominciato a puoi distanziarmi molto di più, nonostante dal mio gruppo di amici, ma ho cominciato anche a saltare molto più spesso i giorni di scuola, a litigare anche più spesso con i miei genitori e cose del genere e a rimanere molto tempo, non necessariamente dentro a casa perché mi sentivo spinto ad andare fuori, quindi in genere andavo in qualche parco, andavo spesso al parco della Caffarella e stavo là ore. Pian piano avevo quasi più paura di andare anche in macchina o comunque di stare vicino alla gente, tutte queste cose, quindi tutto questo poi mi ha portato un po' a isolarmi, ma tanto è che io che stavo messa un po' male in quel periodo neanche me ne ero resa conto, cioè avevo quasi tagliato anche le amistizie, comunque gli altri neanche mi schiavano più perché comunque passi come quello un po' diverso. Nel mio periodo più buio, più basso, è praticamente un tentativo costante di cercare qualcosa per passare il tempo, per far passare il tempo, però nulla funziona. Faccio spesso riferimento all'apatia totale perché di base una delle cause principali, almeno per me è stata una delle cause principali dell'isolamento, è apposta neanche l'assenza di gioia, ma proprio l'assenza di qualsiasi emozione provocata o causata da qualsiasi cosa, evento, situazione, persona. Fino ai 17 anni circa ha fatto la vita che fanno tutti i ragazzi di quell'età, al mare con le amiche in affitto, ha fatto tutto quello che le ragazze di quell'età fanno, con amicizia regolare. A un certo punto ho cominciato a notare un disagio ad andare a scuola che si è accentuato sempre di più e la cosa più terribile che è successa, non me la dimenticherò mai, è il fatto che un giorno ho letto la bozza di un suo tema che era veramente spaventoso, sembrava scritto da un computer, era completamente senza emozioni dentro, no veramente non lo so descrivere perché era orribile, un tema che sembrava scritto da una macchina, io ho detto mia figlia non sta bene. Cioè la sua stanza era una tomba, perché le apparelle abbassate sempre, di giorno o di notte, lui c'è spenta sempre, porta al 90% chiusa a chiave e usciva pochissimo, veniva a mangiare a tavola, parlava poco e si alzava, questo è il risultato finale diciamo, quindi da lì te ne accorgi che c'è qualcosa che non va, perché non è plausibile una vita così, no? Che vantaggio c'è a stare davanti al computer dentro una tomba? Piano piano ha iniziato proprio a chiudersi, si è visto proprio come una discesa, io la chiamo una discesa all'inferno, all'inizio non riesce a capire che è una cosa volontaria, una cosa che nasce interna al ragazzo e spesso e volentieri non è purtroppo solo pigrizia o voglia di stare sempre attaccato ai videogiochi, e quindi prima di renderci conto che la situazione era grave è passato del tempo. Cosa può fare la famiglia? Innanzitutto non colpevolizzarsi, parlare, comunicare e la cosa più difficile in assoluto è aspettare, attendere. Io mi ritrovo costantemente a combattere con i genitori che spingono per ottenere dei risultati, che però rispecchiano i loro bisogni. L'esterno per noi è un posto molto freddo, per me è privo di empatia, se lo devo riscrivere, non ci fa sentire a nostro agio, ci tende ad allontanarci. Ho pensato molto a se il mio odio per queste istituzioni e per queste abitudini sociali è giustificato se è una cosa nata da una pazzia o da un'invenzione o da un'influenza che non è mia. A me della società non piacciono molto le etichette, comunque le persone tendono a etichettare le altre persone. Magari una persona che ha una difficoltà o no, quella è un malato, oppure queste cose. O comunque c'è la maggior parte delle persone un po' diverse, che magari hanno qualche patologia, anche qualche malattia, o comunque magari che hanno altre cose, vengono quasi sempre allontanate. Finosco tantissime persone che fanno comunque gruppo e quindi se tu li vedi sono tutti identici. In realtà, quindi, che ne so, ho molte amiche che se non hanno un determinato vestito, un determinata cosa, magari dicono, oddio, allora non verrò accettata, perché se io non ho, che ne so, le Dr. Martins, che sono un paio di scarpe, loro mi dicono che sono povera, robe così. Ho amiche che pensano queste cose e quindi diciamo che non è che, insomma, che mi rispecchia molto è loro, quindi quando parlo di altri intendo un po' tutta la società, un po' tutta la massa. Giudicare è un aspetto che vediamo ovunque, anche adesso, che ne so, immigrazioni, variate cose che sono successe due anni fa, tentate cose così, la gente tentava, cioè la gente puntava il dito senza fare domande, che ne so. Il politico gli diceva, è colpa loro, e loro puntavano il dito e la gente li seguiva come delle pecore. Mi sono accorto abbastanza in fretta che non volevo essere, che non volevo far parte di, sì, non riuscivo a vedere altro che una farsa, che una serie di istruzioni che dovevo seguire semplicemente perché dovevo dimostrare che ero bravo a seguire le istruzioni. Sfortunatamente va così, cioè, comunque, tu per sopravvivere devi avere un lavoro, se non hai lavoro, non hai la disponibilità di soldi, che ne so, vestiario, approfissionamento e cose così. Però credo che si cominciava tutto dalla scuola e quindi credo che sia licito cominciare a parlare di quello. Per me era noioso, per stare su un argomento richiedeva una settimana, al massimo due, dicevo qui non arriviamo da nessuna parte. Poi già con lo studio, di stare lì a leggere 50 pagine, una dopo l'altra, mi faceva già passare la voglia di aprire un libro o guardare la copertina. I professori c'erano, se gli chiedevi qualcosa te la spiegavo, ma c'è anche da capire che in una grande classe comunque non è che si possono concentrare su un solo individuo. e hanno anche molte più classi da controllare, quindi è questo che non mi piace molto il sistema scolastico. Nessuno si vuole prendere la responsabilità, cioè a loro non gliene frega niente se tu vai o no. Cioè, praticamente come un numero dentro una classe dei numeri, cioè uno in più, uno in meno, a loro non gliene frega. Ho avuto poi una professoressa che mi ha preso un po' in carico, cioè comunque si è presa un po' la responsabilità, l'anno scorso, e quindi sono tornata, comunque ero più sicura, avevo anche i miei comfort. Però non è stato sempre così, perché molti prof mi dicevano che io destabilizzavo la classe, cosa che non era assolutamente vera, o comunque molti, sì, prendevano un po' le distanze, cioè non gli frega niente. L'insegnante molto spesso non sa che cosa fare di fronte a questo, anche perché non sa come raggiungerlo, questo ragazzo che si rifiuta di andare a scuola. E quindi il rischio di perderlo è grande. Più volte mi è successo di incontrare professori che ogni volta che cercavano di andare fuori dal curriculum per una qualsiasi cosa, non credo ci sia stata una volta che mi hanno punito espressamente, però comunque era abbastanza chiaro che non era una cosa che dovevo fare, insomma. Devo attenermi strettamente al curriculum, devo fare quello che mi dicevano, perché tutto il resto non sarebbe stato degnato neanche di considerazione. Loro vorrebbero materie scolastiche più vicine, o perlomeno vorrebbero, oltre alle materie scolastiche tradizionali, anche materie scolastiche che fossero vicine alla loro realtà di vita, quindi che le insegnassero proprio come vivere, come materie che riguardassero l'educazione emotiva, l'educazione sessuale, l'educazione proprio allo stile di vita sano, l'educazione alimentare. Bisogna modernizzare la scuola. Se noi prendiamo la foto di una cameretta di un adolescente degli anni 60 e la foto della scuola degli anni 60, notiamo che la cameretta ovviamente è una cameretta povera, è una cameretta che non è tecnologica come quella di oggi. Se noi prendiamo la foto di una cameretta di un adolescente nel 2020 e la foto della scuola del 2020, notiamo che la cameretta è totalmente diversa, la scuola invece è rimasta invariata. Ogni ministro dell'educazione, ogni professore, ogni preside di scuola che ho sentito a parlare al riguardo sono tutti coscienti del fatto che sono tutti che vogliono migliorare la situazione, sono tutti che vogliono ridurre l'autorità del professore, vogliono avvicinare, vogliono ridurre il distacco e la distanza che c'è tra il professore e l'alunno e cose del genere, però tutti questi tentativi secondo me hanno semplicemente peggiorato la situazione. Sicuramente uno dei luoghi dove emerge in maniera forte la problematica degli ichikomori è la scuola, ma anche la famiglia. Spesso le famiglie che si trovano in difficoltà, se hanno un buon rapporto con la loro parrocchia e con la loro comunità, chiedono aiuto, chiedono aiuto per essere accompagnati in questa difficoltà. Allora la parrocchia da sola non può far nulla, la scuola da sola non può far nulla, lo psicologo stesso da sola non può far nulla se non ha il supporto dei genitori e delle altre figure istituzionali o meno che sono intorno al ragazzo, perché l'intervento deve essere sinergico e integrato, ognuno con la propria specificità. La parrocchia non potrà mai essere psicologo, lo psicologo non potrà mai essere insegnante, però se si ci mette insieme e si ragiona su come accompagnare la difficoltà seguendo la stessa linea d'azione, questo dà un valore aggiunto molto molto più alto. Due anni fa circa come servizio domiciliare della Caritas partecipammo a un incontro organizzato dall'Associazione Chico Moritalia e in quella sede sentimmo una testimonianza molto forte da un punto di vista emotivo da parte di una mamma che stava avendo questa situazione con un figlio che non voleva più uscire dalla propria camera da letto e quello che ci colpì fu in particolare la rigidità e i muri che piano piano lei si ritrovava davanti nel momento in cui provava a chiedere aiuto. Lei si ritrovava in una maniera abbastanza netta, in una posizione come dire che era diventata anche ingovernabile da sola, ossia la difficoltà che il figlio non voleva uscire dalla propria camera ma per avere aiuto la risposta che si identifica dare e ci porti suo figlio qui. Allora come servizio iniziamo a ragionare, è possibile che non c'è qualcuno che vada a casa, non chiaramente per un intervento terapeutico ma per una presa in carico della situazione, chiaramente da un punto di vista educativo per una presenza relazionale, non solo nei confronti del ragazzo al quale magari ci si arriva piano piano ma anche nei confronti appunto del nucleo familiare che si ritrova a vivere questa situazione di difficoltà. Era abbastanza dubbioso, sentivo parlare di riunioni auto-muto-aiuto, ero estremamente dubbioso sull'utilità di queste cose e mi sono avvicinato con calma e sono stato ad ascoltare per 5-10 regioni, non ho quasi proferito parola insomma. E a un certo punto più o meno ho compreso, diciamo, qual era la logica che c'era in giro, quindi devo dire che alla fine sì è stato utile. Lo consiglierei, ma non perché si impara più di quello che si sa, ma ti fa ordine, ti mette ordine nelle tue idee, sennò sono disordinate. E andare a fare questo gruppo con gli altri genitori ci ha fatto tanto riflettere proprio sul ruolo che ci davamo uno con l'altro, insomma si è scardinato veramente tutto un equilibrio che si era sedimentato in 30 anni di matrimonio, quindi insomma devi averci il coraggio di guardare in faccia la realtà, anche la difficoltà di ognuno verso l'altro, che poi si trasforma nella difficoltà che crea tuo figlio, probabilmente non sarà sempre così, per noi è stato così. Noi il primo passo che facciamo è quello di prendere questi genitori, informarli e formarli, perché come la letteratura internazionale sul fenomeno ci dimostra, è solamente agendo sul sistema che si può poi arrivare alla persona. Mio padre ha avuto pazienza e bisogna avere pazienza, perché lui avrebbe potuto benissimo prendermi per i capelli e lanciarmi da qualche parte, da qualche collegio. Quindi sì, tanto di cappello per la pazienza che ha avuto. Lo scopo della nostra sensibilizzazione non era arrivare quando il problema è già manifestato, ma cercare di rendere consapevoli le realtà in maniera da intercettarli prima, da provare a intercettare i primi segnali di isolamento, i primi segnali di difficoltà da parte dei ragazzi. Questa cosa del covid sì, è stato improvviso, non se lo aspettava nessuno. Mentre personalmente il fatto di stare chiuso in casa non mi ha fatto né caldo né freddo, essendo un introverso non mi ha cambiato più di tanto. In termini pratici non l'ho visto da molto diversamente da come vivevo prima, perché pure su questo sono abbastanza aperto, non seguo regole che non credo abbiano senso. Quindi, e poi, comunque le mie abitudini non è che richiedevano peste con 20 persone o che mi baciavo con gli stranieri, non stranieri, estranei, scusa, è un termine un po' un inglesismo. A me comunque non mi è passato molto, cioè quasi per niente, perché forse è un po' la cosa della scuola online, perché comunque non l'avevo mai fatta e in quel periodo stavo comunque andando di più a scuola. Cioè, verso febbraio ci stavo riprendendo ad andare molto di più e quindi per quello mi è dispiaciuto, perché volevo continuare ad andarci, perché la scuola online non è che mi fa impazzire. Però, in tutto sommato, c'è andato bene. La cosa brutta era appunto che non si poteva uscire, però comunque io, essendo che vivo in campagna, cioè nel giardino comunque ci stavo, quindi era comunque una situazione diversa a chi vive in appartamento. Però non mi è passato quasi per niente, perché comunque stavo con mamma, cioè stavo un po' nel mio comport. Questo isolamento, prima di tutto, è non volontario. Credo sia una distinzione molto importante da fare tra l'isolamento volontario e non volontario, perché, prima di tutto, c'è sempre l'opzione di uscire da un isolamento volontario. Secondo, se ti dovesse capitare di voler uscire da un isolamento volontario, non c'è una punizione legale, insomma, sociale. C'è da dire, però, in termini pratici ci sono molti ragazzi che l'hanno presa in un modo e che l'hanno presa in un altro. Ci sono molti ragazzi che stavano giusto sull'orlo di cominciare a uscire, di cominciare ad aprirsi un po' di più, che si sono stati stroncati, che si sono trovati stroncati, altri invece che si sono sentiti un peso levato dalle spalle con questa situazione. Dal punto di vista mio, entrono a questa parte, vorrei prepararmi per andarmene via dalle città, preferibilmente distanziarmi interamente da tutto e da tutti. Lui adesso si è ancora più chiuso in casa. È impressionato da questo discorso, questi campanelli d'allarme. È impressionato. Comunque questa cosa del Covid, non lo so, perché mi è pure salutato del complottista, però non la vedo come una cosa da cui si può sfuggire e per il tipo di persona che sono non credo di poter essere in grado di vivere in un mondo che è disposto a sostenere queste cose senza essere compromesso moralmente, che è una cosa che ho trovato a essere molto importante. Mi piace il fatto che io provo interesse verso il mondo esterno, pur avendo un certo distacco con esso. Sono curioso nel voler vedere il modo di vivere delle altre persone, più che conoscerle come individui. Mi piace molto come ragiono, come la mia mente. Comunque non mi faccio trasportare troppo dagli altri, prendo comunque decisioni mie. Comunque sono molto ambiziosa, testarda. E quindi diciamo che ho sempre avuto un pensiero mio. E mi piace questa cosa perché sono diversa dagli altri. Comunque non mi piace questa cosa. Comunque non mi piace questa cosa.